ciao a tutti e benvenuti nel tutorial di oggi andremo insieme a vedere come realizzare questo meraviglioso motivo guardate che meraviglia guardate che eleganza e finezza che ha questo motivo è facilissimo da realizzare è un motivo che si presenta da due lati diversamente ma entrambi sono un bellissimo motivo a sua volta guardate questa sarebbe la parte rovescio ma anche parte rovescio è molto bella e decorativa e questa è la parte avanti che è ancora più elegante questo è un motivo che possiamo andare ad adattare per i progetti di diversi tipi sia estivi che invernali dipenderà in base al filato che andremo utilizzare poi questo è un trafolato molto fine perché è molto coprente è un vedo non vedo quindi è un motivo che possiamo andare ad adattare anche per i progetti uomo donna bimbo infatti è un motivo che possiamo andare poi applicare per i veri propri progetti come un cardigan un cappellino magari un top una canotta le sciarpe che è molto bello e molto elegante ci permette creare un progetto di un gran bel effetto di una finezza secondo me veramente unica guardate che meraviglia ha anche questo effetto un po elasticizzante ma non troppo è un motivo facilissimo da realizzare infatti è un multiplo di due maglie e di due ferri noi ora per il nostro campioncino andiamo avviare 12 mali con avvio alla nordica di cui ci saranno 10 mali dedicate al motivo e due maglie ai vivagno ecco qui abbiamo avviato le nostre 12 mali e partiamo subito con il primo ferro che servirà per mettere la nostra base e andiamo a lavorare tutte le nostre maglie a rovescio anche la maglia di vivagno quindi tutti i 12 mali vanno lavorato a rovescio perché serve come la base del motivo ed ecco qui una volta che abbiamo messo la nostra base partiamo con il nostro primo ferro del nostro motivo in totale sono due andiamo spostare la nostra maglia di vivagno e andremo lavorare con due maglie perché il motivo è composto da due mali quindi coppie di due mali prima di lavorare la coppia di due mali però noi dobbiamo andare realizzare un gettato in questo modo prima della sua elaborazione guardate andiamo con il ferro facciamo un gettato da dietro la ganciamo facciamo un gettato poi con il ferro di destra entriamo nell'asolo di due mali che si trovano sul ferro di sinistra e andiamo a lavorare una maglia a diritto come facciamo normalmente quando uniamo due mali però non facciamo cadere le nostre due mali creiamo una maglia normale lavorata subito dopo andiamo a creare un gettato per una seconda maglia rientriamo in asolo di questi due mali che sono ancora sul ferro di sinistra e realizziamo una terza maglia quindi da due ne abbiamo fatto tre mali a questo punto possiamo far cadere le due mali dal ferro di sinistra ora noi in totale abbiamo quattro mali da due un gettato e un aumento che abbiamo creato quindi adesso due mali sono diventate quattro abbiamo fatto raddoppiamento del numero delle mali su questo ferro di andata ora noi dobbiamo andare a procedere così per tutte le nostre mali ma vediamo anche un'altra insieme prima di lavorare la copia di due mali dedicata al motivo andiamo a realizzare il gettato così lo agganciamo e creiamo un gettato una maglia entriamo in asolo di due mali e andiamo da due realizzare tre di cui due sono lavorati e un gettato la prima la lavoriamo quindi uno secondo è un gettato e la terza è lavorata rientriamo quindi nelle nostre due asole andiamo realizzare una terza maglia vedete abbiamo realizzato tre maglie da due più il nostro gettato che abbiamo creato prima di lavorare ed ecco che nuovamente abbiamo raddoppiato il numero delle mali da due della coppia abbiamo quattro e questo è il ferro di ritorno andata scusatemi quindi andiamo a fare tutte le nostre maglie così del tutto il nostro ferro raddoppiando il numero delle malie in questo modo che abbiamo visto ed ecco qui abbiamo visto il nostro primo ferro guardate che meraviglia come sta già prendendo la forma e come facile da fare ora il secondo l'ultimo ferro del motivo è anche il ferro di ritorno sul ferro di ritorno invece noi dobbiamo andare riportare al numero originale le nostre mali quindi andremo a fare delle diminuzioni la male di vivagno la spostiamo e le quattro mali che ora abbiamo le andiamo a diminuire dividendoli in coppie quindi due a volta entriamo in asole di due maglie e andiamo a ricavare una maglia lavorata a rovescio ed ecco e anche la seconda nello stesso modo ed ecco che di nuovo noi abbiamo le nostre due maglie e così dobbiamo andare a fare tutto il ferro di ritorno da due ricavare una da due ricavare una per riportare il numero originale delle maglie quindi il ferro di andata abbiamo fatto i nostri aumenti abbiamo raddoppiato il nostro numero delle mali nel ferro di ritorno noi le andiamo riportare al numero originale e gioco di questi due feri ci permette creare realizzare questo meraviglioso e facilissimo motivo davvero molto elegante e facilmente applicabile per i vari progetti ed ecco qui guardate ora non dobbiamo fare altro che andare applicare quindi questi due feri ferro di andata e ferro di ritorno per tutta la lunghezza e larghezza del nostro progetto e questo è il risultato finale dopo che abbiamo lavorato per alcuni centimetri è meraviglioso consigliatissimo questo punto ci è piaciuto veramente tantissimo e lo volevamo condividere con voi speriamo che questo tutorial sia stato utile e chiaro grazie che avete seguisto questo tutorial se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivetevi per non perdere tantissimi altri novità in arrivo in più non dimenticate attivare la campanella per appunto non perdere i tutorial che escono durante la settimana ci potete trovare anche su facebook dove abbiamo creato sia la pagina che il gruppo dove potete venire condividere le vostre creazioni magari alcuni anche riprodotti seguendo i nostri tutorial per noi è veramente un piacere ricevere il vostro feedback grazie a tutti e al prossimo tutorial